ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video sul canale finalmente fu un bel po di tempo si ricomincia a pullare per bene anche su Genshin dopo tanti video a tema starrail è arrivata a fontein è arrivato lì nei linette le armi nuove l'area nuova stiamo facendo una maratona in live sul sito viola bellissima ci stiamo divertendo un sacco e niente abbiamo pullato in tantissimi adesso il mio turno come sempre questo video sarà il riassunto delle pull non so se lo dividerò in due dipende da quanto ci mettiamo a pullare sul mio account però come sempre vi auguro buona visione di iscrivervi al canale youtube per vedere appunto tutti i contenuti passare sul sito viola per non perdervi le live e per farmi pullare sui vostri account perché come sempre ci scula in live e niente vi ringraziamo sempre per il sostegno e ci vediamo ai prossimi video pt 50 andiamo a pt 60 nel banner di linee con il 50 e 50 quattro stelle linette meglio gli altri diventano delle pull che fanno sempre comodo visto che stiamo aspettando i signorini quindi vanno bene anche le pull però ecco appunto però se mi danno anche qualche copia di linee in mezzo a questi altri figlioli queste sono due pull sarei contenta sarei contenta vediamo 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 dire che qua a a quattro stelle abbiamo già dato in questa musica direi abbiamo già dato ok andiamo a 70 poi facciamo il trick 70 quattro stelle allora boh boh e si è andata così c'è c'era tirana c'era mica c'era cave fischio ok ok vabbè vabbè che devo dire fischio i grilli cri 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 sottofondo cri cri ok allora faccio quattro singole perché il mio trick è un po' magico e poi la molti e poi allora 71 4 stelle linette barbara io sapevo che quando c'è barbara nel banner io chiamo barbara 72 io sempre raga è il mio cosplay non posso 73 ultima singoletta 74 ora esce in questa non so come mai mi sentivo che questa era un'antipatica dai siamo a pd 74 andiamo andiamo eccoci mamma mia era un sacco non pulavo su genshin 75 76 77 78 uh vinto invece l'ho vinto 78 che bello non me l'aspettavo vi giuro oggi mi sentivo di perderlo oggi mi sentivo totalmente di perderlo proprio 100% quindi sono molto 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 contenta questo è 64 64 ok bene possiamo fare il ritiro zen dai dammi tirara prima o poi me la devi dare gioco io non accetto sta cosa dammi sta grazie tirara io ossessionata raga se non me la danno prima o poi spacco qualcosa spacco qualcosa bello l'arco sacrificiale grazie mille grazie grazie molto molto carino molto 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 carino proprio lui era proprio l'arco sacrificale bene siamo alla multi del 5 stelle piti 64 5 stelle 65 e lo sprayer si si va benissimo va benissimo va benissimo mi mancava mi mancava ve l'ho detto che lo volevo ve l'ho detto che lo volevo ve l'ho detto va benissimo va benissimo va benissimo lo volevo lo volevo ora si continua a pullare tanto ma bello questo lo volevo tantissimo lo volevo tantissimo non lo avevo non c'avevo ancora buonissimo allora siamo a piti 10 piti 20 un early piti tipo prossima multi non c'ho per dire io abbonata a questi figlioli c'è ho già preso linee raga ho già preso linee ho vinto 50 50 su linee adesso stiamo cercando di prendere l'arma mi è uscito lo sprayer che però non avevo quindi mi va molto bene perché era un'arma che comunque volevo era nei miei dream army ora spero di trovarlo vediamo portatemi fortuna blessatemi blessatemi che ce n'è bisogno qua ce n'è bisogno st'arco di linee lo vogliamo a casa lo vogliamo a casa allora bene niente andiamo a piti 30 niente ci vuole far sudare l'arco di linee come main stat dà crit damage oltre il 60 di crit damage dà quindi dopo l'acqua simulacra che è l'altra arma in rate up con l'arco di linee è la seconda arma con più crit damage arco del gioco quindi è veramente un'arma molto forte ed è buona non solo su linee ma anche sugli altri personaggi che sfruttano il caricato quindi tignari ad esempio e ganio è molto buona su entrambi quindi nel caso abbiate uno dei due e vi esca l'arma di linee sapete anche a chi darla un sacco di frabonius great sword grazie mille bellissime non erano nel mio immaginario piti 40 niente dobbiamo arrivare al piti io sento che questo gioco mi vuol far arrivare al piti lo accetteremo soffrendo e ci arriveremo molto carino però alla fine ho vinto sull'inei raga dovevamo bilanciare in qualche modo ho vinto sull'inei ok piti 50 niente poi ho vinto anche casca ho vinto anche blade ho vinto anche l'arma di blade negli ultimi giorni in qualche modo dovevo bilanciare ho fatto il pusiferio su anche star rail negli ultimi mesi quindi devo accettarlo thank you thank you for good luck ok allora 60 poi facciamo le 4 singole e poi la multi vogliamo arrivare al piti voleva arrivare al piti noi lo accettiamo lo accettiamo lo accettiamo con sofferenza ma lo accettiamo ci siamo allora faccio le 4 singole per arrivare appunto al 64 e poi tiro la multina però prima facciamo una pausa nel mezzo così nel frattempo recupero un po' dei vostri messaggi allora 61 stelle 62 oh magari esce una di queste no 63 no e 64 vediamo se è questa no perfetto ci fermiamo un attimo allora perfetto siamo a piti 64 ragazzi ora tiro la multina e esce il 5 stelle eccoci ragazzi ma che cos'è oggi vabbè 65 dai 66 dai dammi l'arco di linee 67 68 69 69 simulacra vabbè tre giri sul banner armi lo accettiamo lo accettiamo perché è un banner armi buono iti 14 4 stelle dai dai vediamo se esce o comunque una chirara me la poteva dare in tutto ciò se vogliamo essere pignoli un'altra che ho fatto ci sei bella però incredibile 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 dai da bene poi piti 24 avevo visto doro avevo visto dorissimo dorissimissimo you ok eh ma è forte ancora basta basta questa donna basta è forte l'arco se no non ci avrei insistito così tanto basta amica mollami 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 oggi mio poveramente cioè ci sono un sacco di 4 stelle cioè a due volte non in rate up nel banner armi molto bello anche questo pa bam ok 44 dai in 3 multi arriviamo in 3 multi arriviamo in 3 multi ci siamo davvero ali è uscita anche a tele permanente in guang vabbè un incubo per tutti un incubo per tutti io ancora credo in Chidara basta queste persone mattatemi quelle che non ho costellate basta persone brutte che poi non sono brutte però non le voglio più sono costellati basta sono tutte full basta ci sei anche noi ok 54 dai ultime due due multine e singole vado di singole poi cioè arrivo a 64 e poi singola 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 finché non ci prendiamo l'armadine così teniamo per per il signore vediamo italiano si no salvo la multi sull'inette la facevo se sculavo di qua no così no no assolutamente 64 ultima multi e poi si va di singole fino all'ultima va bene va bene meno mai il primo piti ho fatto soltanto due multi per il primo piti ha un kai star rail sì e porto anche un kai star rail ok finiamo il banner ok andiamo e adesso 64 65 qua si va di singole finché non lo prendiamo 65 4 stelle questa è Chirara no Grace 66 ok 67 no ancora 68 69 69 ce l'abbiamo 69 69 ooooo porca miseria solo perché mi piacciono da morire i gatti se no stavo bello e mi andavo a fanculo arco però benvenuto ooo 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 Grazie a tutti.